Fabio Mantovani ha visto nei servizi di Rete Veneta che pandemonio politico è scoppiato attorno al suo nome? Che cosa risponde? Ho visto il servizio e cosa devo dire? Intanto ne prendo atto perché io sono ancora il candidato unitario di Forza Italia Lega e quindi per me è una cosa abbastanza incomprensibile. Quindi lei non comprende e va avanti per la sua strada? Beh direi di sì, saranno eventualmente le forze politiche che mi appoggiano che mi diranno eventualmente se la fiducia nella mia persona non dovesse essere più tale ma ad oggi le risposte non sono tali. Elena Donazzan però ha detto che i riscontri sul suo nome sono tiepidi, lei ha toccato l'acqua? È fredda, tiepida, calda, com'è? Allora io ritengo che i riscontri non possono definirsi né tiepidi né caldi per il semplice motivo che questo stallo dovuto alle politiche mi ha letteralmente bloccato. Quindi lei era bloccato dalle politiche, adesso però gli elettori hanno detto la loro Forza Italia è in calo, la Lega è in crescita, lei si sente più in calo o più in crescita? Ma io ritengo... Lei è il candidato di Forza Italia? Beh oddio io sono candidato di Forza Italia e Lega e quindi in valori assoluti io ritengo che invece i risultati siano positivi. Io ripeto non so... Però sia la Lega? Beh sì, sì perché voglio dire stiamo... Quindi anche lei ringrazia i suoi alleati? Ma certamente, però poi ci sono i mal di pancia e lei come li digerisce questi mal di pancia? I mal di pancia vanno curati dai partiti, vanno curati al loro interno perché è un problema solamente loro interno. Lei chiede di essere in qualche modo tutelato, cautelato, difeso? Certo, certo perché stiamo parlando di un candidato che è stato presentato come candidato civico e comune alle due liste. Chiudiamo con la domanda delle 100 pistole, è pronto? Certamente. Allora, visto che prima di lei Ciambetti, candidato della Lega, ha fatto un passo al lato per farle posto, se le fosse richiesto, in nome dell'unità del centrodestra, è pronto anche lei a fare un passo al lato? Io ho detto e ribadisco, se chi mi ha chiamato e, ripeto, non sono stato io andare a cercarli, mi dice di fare un passo indietro, lo prenderò atto. Lei fa il passo indietro? Beh, certo che sì.